ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi apriremo le nuovissime monster ball guardate qua mostri da strizzare con pallina squishy vi spiego cosa dobbiamo fare ne sono 18 ovviamente li dobbiamo aprire sono 18 mostri tutti diversi sperando di non avere dei doppioni ma li dobbiamo collezionare tutti iniziamo? si a scappare sono fatti da diramix e hanno un costo di 3 euro e 99 è vietato ai bambini inferiori ai 3 anni e adesso vediamo vediamo prima di aprire la prima pallina vi spiego cosa dobbiamo fare li dobbiamo strizzare come puoi vedere qui e uscirà una pallina squishy ah dal corpicino del mostro? si la tiene in bocca ah ok non si sa che bocca hanno ok allora apriamo la ecco la prima che bello c'è un magazine c'è un magazine qualcosa all'interno che ci fa vedere un po' le caratteristiche quanto è carino ma un mostro malino è vero ma ce ne sono noi abbiamo trovato strambox strambox ma che nome è strano questi sono tutti tutti i mostricini aspetta fammi leggere si chiama strambox quello che abbiamo trovato ed eccolo qua ma voglio vedere tieni guarda tu strambox mamma è quello lì strambox è questo qui sì sì nel frattempo ho tirato fuori la pallina facci vedere com'è wow mamma dentro è bello mettiamola rimettiamola secondo me è meglio tenerla dentro perché si mantiene più il mostrino ma vuoi aprire la mia certo adesso apriamo tutti ah dai ora Mattia apri la sua vai vai apri Mattia apri un po' apri chi è questo tutto blu vediamo giralo di qua Mattia facciamolo vedere appoggia wow sembra un mostro del ghiaccio sì però come quello di vastatore ringhiaccio ringhiaccio si chiama hai visto è uscita Mattia strizza vai tira ah what oh mio dio che abbiamo combinato palline lotante che schifo punti ad aprire un'altra pallina di tutto di monster ball facci vedere wow che cosa è una mummia questo è proprio quello della pubblicità ecco questo verde che sta qua è questo facci vedere Alfonso me la fai vedere non strizzare troppo che si rompe eccolo ma che gli hai deformato gli occhi ma fammi vedere ma è un è un è una mummia è una mummia è una mummia smendor 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 ehi smendor c'è un tuo amico di ghiaccio che si chiama ringhiaccio e poi c'è questo come si chiama strambox strambox che mi sembra il fratello del polpo con un occhio verde un mostro marino apriamo un'altra pallina mia Mattia apri un'altra pallina in collaborazione con Alfonso Alfonso dai dai una mano ce la faremo ce la faremo ecco le buone maniere si ottiene sempre tutto siamo pronti vai forte con un bel pugnone Mattia tira il pugno più forte che mai vai Mattia prova a tirarle e ci siamo riusciti questo chi è? questo chi è? questo è antennina robobot come quello viola fammi vedere bravo quell'altro monster flex marino però colore spezzato e vabbè non fa niente che si è spezzata vediamo un po' come sono un robot amico dei bambini ecco questi sono i suoi amici oh lui non ha gli occhi eh però ce li ha pallina ce li ha pallina no vieni qua vieni facciamo un attimo mettiamo un attimo guarda guarda che fa ragazzi se questi monster baller vi sono piaciuti lasciate un like attivate la campanellina iscrivetevi ciao 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 ciao